Si 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 è venerdì, 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 è venerdì, è venerdì, sempre pieno fuori, buongiorno coccodrilli, ci siamo ci siamo, è lui o non è lui, certo che è lui Ah, lo schiso, guardate com'eri, schisa bene, schisa più non posso e vai Grande giornata ragazzi, è un venerdì speciale perché gioca la nazionale, ci fa anche rima, ma quando gioca l'Italia uno si sente un po' no? Ci sentiamo tutti più uniti, è giusto così, è anche un po' di caffè Mmm, sa proprio di schiso, no, vabbè, sta pieno, ma è sempre pieno qua, guarda, pieno pieno, si si si, è venerdì, si si si, è venerdì, muove le braccia, si si si, è venerdì, con le braccia mobili, vai, con le braccia mobili, si si si, com'è no? Fa il rotolino, rotolino, rotolo, si si si, è venerdì, 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 si si si, va a fanculo Oh, che bello eh, che bello, ma buongiorno Buongiorno sto cazzo No, vabbè, ma così subito, è venerdì, oggi gioca anche la nazionale, bisogna essere concentrati, carichi, la vedremo insieme Bué, bué, oggi Gioca anche la nazionale Sassera Sì, bisogna sta bellissimi insieme così, bisogna guardarla così Sì, basta che stasera di coglioni Così bisogna guardarla Ah Oh, porco cane Ha fatto cadere il tarulletto, eh E per me, stasera di coglioni Ma via Che è da fa, lo? Oh, va via Che è da fa, nona Marie? Mi sa fa lo stretching Lo stretching? E come funziona, fa vedere? Che è del tarulletto quello Sì? Eh Coccodrilli, vi ricordo oggi, 13.30, su YouTube, Carletto Life, il backstage del video Mamma mia, come sale Ma che ricordi? Fate i suoi Adesso mi pago un po' con voi Ah, mamma mia Chi se la ricorda? Se sei Se sei Mamma mia Dove vengono i bri... Ci siamo, ci siamo Sulle Mano Io Vi Amo Ok Ci sei, 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 ci sei Qui alla Flexor Guardate Andrea che esercizio mi fa fa Questo per fare tagliatelle? Come si fa? Così? I tagliolini Sì, i tagliolini I gnocchi I gnocchi Ci fa parte Ci fa parte, ragazzi Uno spettacolo Grande Andrea Morbido 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 Andi che zavorno Ah Forza Fai fiammi Oh no Ma va Fai un culo Ma che stai Fa Ma che Sto a leggere Que vuoi? E se arriva E se arriva E se ci vuoi Garnere Sto a leggere Eh 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 Eta cavolo Eh 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 Armetto su bottega Eh 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 Armetto su bottega Attenzione Tangentopoli Eccolo Guarda come ride Armetto su bottega Guarda quanto è fai Eh guarda Armetto su bottega E' contento Vedete Gli ho finito Gli hai finito? Eh sì Gli hai finito Eh già La signora di là In presto Mi sposto 50 euro Che dopo Trardo E poi? Eh eh Io 50 euro In presto Ma Però Mi allargamo Anziani Bisogna portarle Anche a far spesa Gli anziani No No Anziani Sarei tu No Come anziani Sei tu No no Io non so Sempre la solita storia Ma mi dici Chi era Quello Eh ti ha detto Che fai pagare Sempre da me Eh Ma chi era E che ne so Era un follower Ti ha detto Che fai pagare Sempre da me Io veramente No parole Quei coccodrilli Sono in chat Sul video premiere Di youtube Fate swipe Vero no? Mo' andiamo in chat Vero? Ebbene Io ci facciamo 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 Fermate Testa di cazzo Nucleare Mi consumo tutte le gomme Cucise parte Scuola guida Scuola guida Scuola guida Ma guarda Taccola sorcata Lì Guarda un po' Quei Sorcora Che era Goku È di nuovo In forma Come? Come gli do? Sotto a che? 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 Quale? Ma la vuole accostata al muro di là Dov'è? Cucise Ormai Non c'è più Quella di avanti Va bene? Sotto a che? Sotto a che? Sotto a che? Sotto a che? Un'altra volta Non ci facciamo Ma arrivo via eh No 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 Le minacce no Però te l'ho detto Dai su Ancora queste minacce Gli fai male no? Cucise Non c'è la motosca Sentirei Ah Va dietro E vai mettere il muso là Ma sei sicuro tu? Qui me ne vuoi Ale no Ci vuole il geometra Per mettere questa macchina No io l'ho metto a me Che ho una manovola Sì Eh no? Ci vuole il geometra Prima di tutto Dato accostato al muro Ma ci vuole il geometra Sì ci vuole il cazzo No tra voi Eccolo qua Il video è uscito Fate swipe O no? Come devono fare? Come devono fare o no? O no? O no? O no? Come andrà a fare? Come andrà a fare? Swipe Swipe Fate swipe up Ma non basta Di mangiare il prosciutto No? Il prosciutto Il prosciutto Non mi ricadè Non mi ricadè Perché sei un burrello scemo Ma mi lasciate Dico io Sì non la mangiare Quasi reggaeton Quasi reggaeton anzi Tan 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 Si illuminava Na la 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 maritona La maritona La pancina la Nankatsu ha vinto ma chi è questa canna? di Capitan Tsubasa ma io non capisco niente la Nankatsu ha vinto che gli vuoi dire? ma da chi? dalla Nankatsu che ha vinto il campionato prefettura che gli vuoi dire? ma chi è questa canna? che gli vuoi dire? e quindi? e poi? e poi? e poi? e dopo? la Nankatsu incredibile la Nankatsu ha vinto comunque tutto mi aspettavo meno che guardare i cartoni con i sottotitoli cioè devo andare su google e riguardare i nomi perché sennò non me li ricordo anche da voi capita così? cioè tutti i nomi giapponesi non ci capiscono a minchia come ce l'avrà? nero o bianco? e che adesso? l'hai già guardato più un pistolo ci piangono da ridere? si perché l'hai già guardato? io ci ho guardato più e sto dormendo tu non ridi tanto che c'hai anche tu i capelli bianchi si ma i peli come ce l'ho? ah non lo so io ci ho guardato come erano i peli miei c'è fra nero ancora i neri e ma sei bianco? e ma col tempo hai i capelli bianchi? 93 anni ma anche tu l'hai visto ma anche tu l'hai visto questo è un circo a questa età sta a pensare il colore dei peli del pistolo lui lui ci ha ripieno cosa fa il sondaggio? ha detto che lui non sa ricordare che colore c'è il peli dal passaro io che ne so ormai mica avevo guardato lì se avrei guardato la luce ci vuoi guardare la c***a è bianca come sopra ma che c***a ne so ce l'ha bianca? ce l'ha bianca il casino va bene dai una colorata no? eh c'ha le bombolette le vuoi più viola come no? fiamoli viola la i peli del cincilla viola dai la ma smetta di farli imbecilli viola viola la signora ce l'aveva viola guardate chi c'è oggi pomeriggio 1.50 e 1.10 marchino eccolo il papà e basta solo così? si coccodrilli coccodrilli tutti in forma oh già meglio perché è un po' timido il papà mi chiedete sempre del papà eccolo 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 che è? ha salvato un cigno ha salvato un cigno? e tu che salve? niente che salve? niente ti salvo niente ti magno ogni cosa tu il magneresti? si le pappardelle al cigno sono veramente buonissime vieni a giocare come a beach volley qui? a beach volley? si a pittoromazzo vieni a giocare a beach volley? si ci viene? no perché? viaggia di coppobastia eccolo guardate il muflone italiano si sta scaldando anzi umbro muflone umbro si sta scaldando oggi partita inaugurale poi c'è questa ragazza qua nuova la stiamo testando pronto sta scrivendo la lista eccolo qua direttamente da rio de santamaria alè eccolo la lista si 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 è venerdì non sta andando ragazzi non sta pieno team sta andando male non so se la colpa è la mia fuori questa ragazza che abbiamo trovato non so dove ha detto che era brava un un due un due un tre 4 è arrivata la buve c'è è arrivata la bufera è arrivato il temporale c'è è arrivata il temporale c'è chi sta bene è chi è male è arrivata l'elola Bello de Roma! Con la partecipazione speciale di Antonello Venditti Filibertus Bello de Roma! Una benedizione volanti e i buss altissimissimi Nooooa, testo sinistro! Detta così, domani ci sta la trasformazione in cantante, sì o no, sì perché, no perché, e sì, sì, ancora me posso trasformare, domani forse. Il resoconto è questo, com'è? È andato al supermercato, ha fatto spesa e uno dalla corsia gli ha gridato, oh, ancora oggi scrocchiamo un po' che fai pagare a Federico. È vero o no? È vero, sì, e tu che gli hai detto? Oh, meno male. Ti vuoi che sia da fai cazzo su? No, e dopo non sapeva che colore era il po' lì, eh? Sì, dopo non sapeva che colore era il pelo del cincillà, e noi siamo qua per accertare se c'è il cincillà, ma c'è il cincillà? Guarda a me, fa toccare il cincillà, guarda come sa piazza. E poi? Oh no, arzucche? Oh no? E dopo? E poi? E poi? Oh no? Con fermi il giotto a me, ma c'è da mettere la pasta. Mi fa male! Ma a me mi fa male niente. Mi fa male la pasta? No! C'è la zottomia. C'è la zottomia. Che c'è? C'è il coglione c'è. Non c'è più male quelle. No! Oh no? Che ti ha detto? Ognuno... Ognuno... ...sai il cavallo suo come vuole. Che cosa vuoi? Oh, Armagna! Anche questa maniamo eh! La maniata tutta? Tutta la maniata. Tutta quanta? Che hai maniato? Inizia l'europeo, inizia la nostra avventura, l'avventura dell'Italia. La potete seguire sempre con me e... Nonno Faustino! Noi siamo pronti, siamo carichi. Non avevo più una maglia dell'Italia, non so dove sono finite. L'affronterò l'europeo con questa maglia azzurra, ma soprattutto con ricordo delle mie prime scarpette. Nonno Faustino lo sa, era lui che mi accompagnava a giocare. Era lui che era lì a guardarmi se facevo bene o se facevo male. E come era lui lì, questa sera dobbiamo essere tutti, tutti, tutti qui all'Olimpico. Forza Italia! Come hai detto? Ma questa è una canzone, canta questo? E' un cantante? E' buono degli due! Ma qui, non mi battono le mani da uno stronzo così. Perché? Ma che canta questo? E' meglio Bocelli? E' meglio Bocelli? Ah beh! Come cantava Bocelli prima? Di che voce Bocelli? Ma buono è buono? Che è buono? E' buono buono? Questo si chiama buono? Ma questo è un buono, con quel manico lungo? Quei bai! Beccato! Questo è un cantante? Questo è buono degli due! Questo è un buono stronzo. Nooo! il momento più bello di tutti è o no? abbracciamosi qui e qua molto emozionato il nonno sta quasi per piangere vai ci siamo no? aspetta aspetta è sempre quello non è che calma vai te e lì d'italia l'italia se destra nell'elmo di scipio se cinta la testa dov'è la vittoria sono cantante la chioma te schiava di Roma più forte il dio la teo è un bel urlo è un bel urlo siamo pronti alla morte l'italia vai urla basta che me levi il suo braccio urla me ne ho urla ma cosa urla? urla 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 perché come squadra è in superiore però non concludono è un rigore incredibile questo è un albedro stronzo un pezzo di merda ce la tira da quando ha cominciato la partita che ce la sta a tirare che ha segnato? immobile ma che immobile? e te l'ho detto un uomo di schiena l'autogol solta su barella la stroccata quest'albitro è uno stronzo come? questo è un arbitro stronzo come? mi dice da dove viene? sto bacile che non capisce niente il rigore se non va attacco l'albitro arbitro che gli faceve? si stava dentro il campo che alla carabina gli tirava un tre chiappo del culo però a salve attacco lo stronzo di quell'albitro che c'è il campo l'albitro albitro 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 chi ha segnato? anche complimenti da un Umbro da Spinazzola che ha fatto una bella partita sta facendo è De Fuligno è De Fuligno è Umbro quelle De Fuligno giocano tutti bene go 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 chi ha segnato? Sergino? no come si chiama? quel del Napoli chi ha segnato? ma chi ha segnato? in insegna insegna Flavio Flavio insegna oh mi ha rompito tanti coglioni ha fatto vinto si hanno portato fortuna tocca dare un'ordita da l'albitro adesso è stato abbiamo vinto siamo italiani andiamo oltre l'arbitro oltre tutto perché abbiamo un cuore grandissimo il nostro cuore azzurro vero o no? si è il cincillà del nonno è il cincillà è il cincillà è il cincillà forza Italia e una vieni sempre su sto locale mettono buona musica buona musica buona musica proprio le carta in italiano io sono uscito con le ciabatte ragazzi umiltà